Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Sulla FIPLI per lavori un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo e un chilometro di coda in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra. Sempre per lavori è chiuso lo svincolo di Montelupo in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sulla A1 in direzione Bologna dietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!